La Cantarelli è fallita. Dopo due anni e mezzo di amministrazione straordinaria e quattro aste pubbliche, finisce così la storia di un Made in Italy fondamentale per l'economia retina. La sentenza della sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo è arrivata dopo una lunga Camera di Consiglio da parte dei giudici del Tribunale di Arezzo, Carlo Breggio, Antonio Piccardi e Michela Grillo, che hanno preso atto della mancanza di vere e serie proposte di acquisto. Apprendiamo la notizia con molta tristezza, commenta il sindaco di Cortona Francesca Basanieri al mio indirizzo mail e a quello dei sindaci di Castiglion Fiorentino e Arezzo erano arrivate anche nelle ultime ore offerte per l'azienda che adesso gireremo al prefetto. Due curatori nominati dal Tribunale, Lucia Stefani e Salvatore Sanzo del Foro di Milano. Le scadenze più importanti sono Pitti Uomo a giugno e 6.000 capi in attesa di essere consegnati. Per le 250 maestranze adesso lo spettro della sospensione e della decadenza degli ammortizzatori sociali. Oggi inizia un'altra partita drammaticamente più difficile di quella che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e mezzo perché saranno i curatori nominati dal Tribunale a dover valutare se esistono o non esistono possibilità per l'esercizio provvisorio. In questo momento non ne ho idea e me lo auguro, me lo auguro per mille motivi perché potrebbe essere una chance di salvezza ai tempi supplementari dell'azienda laddove si presentassero anche in questa fase soggetti seri, concreti e affidabili per proseguire l'attività di impresa.